I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, a seguito di controlli ad un esercizio commerciale, hanno sequestrato quasi due quintali e mezzo di artifici pirotecnici detenuti in violazione delle norme di pubblica sicurezza e 600 luminarie prive dei requisiti prescritti. Un'operazione eseguita nell'ambito del rafforzamento del dispositivo di vigilanza in maniera di sicurezza dei prodotti e di contrasto nella fabbricazione e commercio illegale di artifici pirotecnici. In particolare, durante un controllo in materia di sicurezza ad un esercizio commerciale, i finanzieri della compagnia di Palmi hanno sequestrato circa 600 luminarie, non aventi i requisiti di sicurezza previsti per la loro commercializzazione. Nello stesso intervento, le fiamme gialle hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro due quintali e mezzo di giochi pirotecnici detenuti illegalmente, con l'assenza della prevista autorizzazione e il deposito del materiale esplodente in locali non conformi. I due responsabili sono stati segnalati alla procura di Palmi per detenzione, commercio abusivo e omessa denuncia all'autorità di materiale esplodente. Sempre sulla piana sono stati scoperti circa 6 kg di polvere pirica e, oltre ai classici petardi, anche un involucro di colore rosso con una miccia. La detenzione del materiale di questa tipologia, privo di qualsiasi riconducibilità ed dichettatura, costituisce di per sé un reato. La regolamentazione, infatti, in materia estringente e pone un limite massimo detenibile dal singolo e, oltre tale misura, vi è la necessità di denunciare la detenzione all'autorità di pubblica sicurezza. Il sequestro del materiale esplodente è avvenuto a San Ferdinando ed è il risultato di un'attività di controllo di prevenzione, volta a prevenire la vendita illegale e incontrollata di fuochi artigianali, che prolifera soprattutto in questi periodi di festa.